Parte giovedì sera la maratona di Teletruria 50 ore di giostra. Il nostro direttore Luca Caneschi si trova in collegamento in diretta con noi da Piazza Grande. Una splendida Piazza Grande già addobbata a festa. Linea a te Luca. Sì ciao Maria Stella ovviamente un saluto a tutti i nostri telespettatori. È vero Piazza Grande addobbata a festa e questa è dobbiamo dire una notizia perché proprio questa mattina sono stati apposti sui palazzi che si affacciano qui in Piazza Grande gli scudi che accompagnano tradizionalmente ogni edizione della manifestazione. Con due particolarità che sono stati tutti quanti restaurati, ridipinti quindi li vediamo oggi in uno splendore diverso da quello a cui eravamo abituati. La seconda particolarità è che l'anno scorso l'operazione del montaggio degli scudi non era stata effettuata causa Covid come tutti quanti sappiamo. fu presa questa decisione e invece quest'anno anche se sappiamo tutti ovviamente che non ci sarà la giosta il 19 giugno così come sarebbe stato previsto normalmente si è deciso e secondo me davvero giustamente di addobbare, di preparare comunque la piazza a un evento che tutti quanti ci auguriamo sia quello di domenica 5 settembre. Come tu hai accennato noi saremo comunque in diretta con le nostre 50 ore, l'iniziativa che abbiamo lanciato lo scorso anno proprio in un'annata particolare come il 2020 ma che avevamo detto che avremmo ripetuto anche nel futuro. Lo facciamo a giugno che non si correrà la giosta ma lo faremo anche a settembre cioè quando la giosta ci sarà invece come ovviamente tutti quanti ci auguriamo regolarmente. diventerà una tradizione nella nostra programmazione. 50 ore ininterrotte, giorno e notte dedicate appunto alla giosta. Ci saranno tantissimi appuntamenti, ospiti, collegamenti con i campi prova, con i musici, con gli sbandieratori, ci saranno i rettori, ci sarà la tavolata con Paolo Bertini, il consigliere delegato dal sindaco, sabato sera la giosta delle giostre, le interviste di Correr Giostra. Un evento davvero straordinario dedicato al testo della disfida di Buratto che viene letta in piazza il giorno della giostra che verrà studiato nelle sue varie versioni che si sono alternate nel corso degli anni fino ad arrivare a quella dei giorni nostri. Quindi sarà un carnet ricchissimo. Noi vogliamo comunque far vivere ai nostri telespettatori il clima di giostra anche se la giostra non ci sarà, ripeto, con uno stato d'animo un po' diverso da quello dell'anno scorso perché l'anno scorso sentivamo solo il vuoto dell'assenza. Quest'anno in qualche modo possiamo anche un po' pregustare invece quello del ritorno alla grande festa della nostra città e alla nostra manifestazione. Quindi si prospettano 50 ore davvero ricche. Si parte giovedì sera, giusto? Sì, partiamo giovedì sera alle 21.30. Avremo già da giovedì i primi collegamenti con i campi prova, Porta del Fore e Porta Crucifra che si alleneranno giovedì sera, i musici che fanno anche loro il loro allenamento al Prato, i primi ospiti in studio. Poi si andrà avanti con quattro edizioni delle giostre che verranno riproposte, sono state scelte da Giorgio Marmorini. Una vittoria per ogni quartiere particolarmente significativa, le giostre che in qualche modo hanno caratterizzato il nostro passato recente. Le interviste di Corrior Giostra quest'anno sono a Mario Capacci e a Stefano Cherici, quindi due personaggi, due giostratori che sicuramente anche loro hanno fatto la storia della manifestazione. La cosa bella è che saremo sempre in onda. Tu ovviamente sei abituato a farlo tutti i giorni al mattino fra le 10.30 e le 12.15, 12.30. Noi lo faremo per 50 ore di fila, quindi in qualche modo io prenderò la tua posizione perché la faremo proprio dagli studi di Teletruria e andremo avanti fino alle 23.30 esatte di sabato 19 giugno. Beh è un bel impegno Luca, di cose da dire, ce ne sono davvero tante. Beh sono tante però sono anche, ti devo dire una cosa, che stamattina mi sono messo a lavorare alla scaletta. Io ho visto che anziché 50 ore me ce ne vorrebbero almeno 70-80 per mandare in onda tutto quello che abbiamo preparato. Quindi alla fine dovremo lasciare qualcosa anche per settembre. È chiaro che in tutti noi è talmente tanta la voglia di giostra che abbiamo lavorato alacremente appunto per arrivare puntuali all'obiettivo. Eh sì, tra l'altro devo dire che Piazza Grande vista così è davvero splendida e lo dico da non aretina. Quindi immagino per gli aretini e anche per te Luca che grande emozione possa essere poter vedere nuovamente questa splendida piazza con questi scudi. È un'emozione, lo è per me immagino per voi. Sì sì, assolutamente. Ripeto, lo scorso anno ci fu anche un po' di dibattito su se gli scudi dovevano essere messi oppure no, oppure in assenza della giostra. Poi alla fine, visto che tra l'altro erano anche in fase di restauro, fu deciso per il no. Io stamattina sono venuto qui, non sapevo che proprio oggi sarebbe stato il giorno nel quale sarebbero tornati al loro posto. E quindi insomma, sì, non la nasconde una certa emozione, effettivamente sì, lo è. È una piazza splendida. Grazie Luca Caneschi per questo bel collegamento, ci risentiremo poi nelle prossime puntate per avere ulteriori dettagli in merito a queste 50 ore. Assolutamente, facciamo questo punto giovedì mattina, diamo proprio il programma definitivo delle 50 ore. Perfetto, grazie Luca. La puntata di quest'oggi di Spunti e Spuntini termina qui. Noi ci vediamo domani, mercoledì, sempre a partire dalle 10.30, sempre ovviamente in diretta. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti voi, ovviamente in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.